Ciao a tutti ragazzi da Moreno, bentornati sul canale di Sergei GK Ma come? Non è il canale di Moreno? Quest'oggi siamo per un torneo bro Il padrone di casa Allora, oggi è domenica Cassino nuova Oggi, però sei anche il padrone, tu sei 10 minuti da Cassino Intanto là ci sono gli avversari che stanno già urlando, si stanno caricando Quest'oggi faremo una piccola compilation di torneo Domani giocheremo pure con la Nazionale Cantanti per un evento benefico per Mitele Merlo Guardate questi super highlights della partita perché Bomber Moreno Ci proveremo, gli avversari sembrano forti Hanno già vinto la prima partita, noi dobbiamo vincerle tutte per passare come i primi E affrontare magari una squadra più debole dell'altro girone Bomber Moreno si è messo le scarpe, è carichissimo E adesso andiamo a presentarvi un pochino la nostra squadra Come vuole giocare? Sergei in porta, Sergei in porta In difesa Venda e Ivra Recco, Bianco, Tremo e Moreno in punta Dai, in difesa 2 Oh, decidete voi quando volete fare i cambi e tutto quanto E' quando uno ha una fiatta Vabbè raga, andiamo in porta e vediamo come va questa super partita Grazie a tutti 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 Tinto